Com'è? Che c'è che non ti picchi? Occhio, magari sono in più Vabbè, lasciamogli sta schiftezza Ok, c'è anche Morgana Start di W Ma, vai Nezzo, vai a P? Eh sì, full a P Cioè, se vuoi vado un po' più tanki No, 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 a me a P va benissimo Cioè, Katrin ho Ione e lo shot, piuttosto Cioè, io shot Ione e perdono il danno Ehm Fatato blu, eh sì, ragazzi Dov'è? Nooo Tu hai paura di te? Dov'è? Dov'è? Un po' presto, ma va bene Presto? Allora non la metto Aspetta ancora un attimino, aspetta ancora un attimino Scarner sta for clear hand Nooo Ah, lascia, lascia Oh, la la luce, bacco Ah, ok L'avrà messa lei, la luce Potrebbe essere ward out il Tribash Scarner puoi usare mid, occhio Eccolo, arriva, arriva, vengo da te, vengo da te Se puoi, puoi passare da me se vuoi Vabbè vabbè tranquillo Vabbè dai non importa Questo è good No vabbè Se riesci a frizzarmi E' finita il game Scarner ha perso veramente un botto di tempo ragazzi Scarner è l'uppy bot side Lì ah poi si fa lo scattolo Si lascia lo scattolo e poi clira Può essere da dietro Scarner ancora mi do botto occhio Se hai bisogno di una mano tu mi chiami Io ora recollerei Ora sta pushando Allora ti copro Hard push e poi becca Io ora recolle Tanto mi vedi Se ti ingaggiano ora è tutto il tempo Perfetto Non vedisci il freeze magari Non può frizzare Non può frizzare Ok vabbè Ok bot Ma no Ora riesci a guardare facendo il solito giro da qua e piazzino a guarda qui Non ce l'ho però Allora no Allora non ti muore da lì Stai sotto la torre e va bene così Scarner forse era mi raptor ma non credo Vorrebbe essere top side di nuovo Avrà recollato Verai starà clearando top side Adesso se fanno i bullet bot side li possiamo punire Perché io sono già forte Quindi non è che dobbiamo sempre prendere il pipo Ora magari li puniamo Provo un gun Vediamo Scarner non c'è Missa midman Stiamo recollando Stiamo recollando Perfetto Scarner può fare tra un solo Sì può Possibile lo stiamo facendo Dopo il tier top side Ma Vinciamo eh Vogliamo andare Li spacchiamo per favore Ah peccato Possiamo andare Guarda 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 Shout out Era Era close Va bene lo stesso Potete riuscire i bot Loro devono recollare Non c'è la più Quali sono altre sigla Non dai Permita il sail Con l'oledì Considera polo in roaming Quindi Mai Via 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 No 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 Assolutamente no Quello chillato Guarda qui c'è Questo No 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 Mi prendo solo questo Ma benissimo sì Ah le bot Ok perfetto Allora tra un minuto Poi si sposta per herald Se la vuoi pusha Se la vuoi pusha verso il tier top Lo freeze e la ammazziamo Va bene La pusha la pusha la pusha La pusha La flash parole La freeze Faccio anche il grump Tanto ti guardo Lui non può più farmare Guardalo guardalo eh Ma vogliamo ammazzarlo Lo vogliamo ammazzare su questa pinch? Aspetta 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 Va bene Vai Vai A flash Ale E vabbè dove va Non è come blister Possiamo un attimo Cioè siamo un po' più Un po' un po' Ok Bellissimo Eccolo eccolo Vai vai Non lo prendo Ale Occhio bot No 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 Sì non vi faccio fare Scarra nella topside Qua sopra la mint Bravissimo Se non muori mint E io la freeze Vai vai frizza frizza Ci sono mid eh Come siamo messi ulti loro Frizza 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 Aspetta aspetta Accetta Manca Paolo eh Sfiga No tranq tranq Era un po' sfigato Immaginavo il triunfo Però pensavo di fare a tempo Invece non ce l'abbiamo fatta Vabbè trunk 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 Tutto ok No 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 Ok ma non toccarlo Te la freeze Te la freeze Te la freeze Mi invadono forse la jungle Guarda che Occhio a te top eh Magari Paolo fa qualcosa strano Dovebbero essere la mia jungla topside Ragora in ogni caso ci serve un appoggio per Usciare di sotto Va bene Ma ora Adesso Vabbè ci sono ci sono Guarda sono vicino quindi Se li vediamo li possiamo fettare in casa Boh a posto Ci sono ci sono ci sono Ulti di ami ulti di ami ulti di ami Vinciamo 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 Scarner A posto a posto a posto Push apre questa Gigante Forse potremmo addirittura fare una double Va bene così Dovebbero arrivarti mid di qualcuno Paolo è rom Chi è? No ma lui era che Orne missa Missa top Missa top Missa top Missa top Missa top Giocate Giocate Seif mid Seif mid Renor Orne mid Mi serve Ha preso la piantina Ha preso la piantina No 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 Puoi anche non la sfittare qualcosa Perché c'è anche Paolo Non possiamo fare 3v2 3v4 Orne top Ok ok Nami a faccia di mid Drago 10 Stanno set up on the grave Lo vogliamo lasciare su Drago Vanets Io lo lascerei Ma no torna pure bot tranquillo Dal prossimo fight li devastiamo al prossimo Drago Ho dovuto flashare Io ho il doppio dei minion di Mione Ma dopo dopo Qua proprio stavo mangiando eh Anche gli ammettano stanno Siamo per ammettando Oh dravolo Oh la ulti in 23 No no non contestate No no non contestate Io ho bisogno di ricollare Io sono fortissimo eh Occhio mid Occhio mid Renor Cioè Il signor Skarner No no Voi bec Voi bec Renor Ora vengo mid Se vuoi giocare aggro 20 secondi la mia R Distruggiamo Sono in 3 mid C'è una ward mettila qua Ho proprio per caso eh Ce l'ho E adesso la metto Eh vuoi venire verso mid? Vane Anche a Paolo Sono qua Sono qua Ma ce l'ho prendo una plate forse Da un bese Non toccare a mid Non toccare a mid Non toccare a mid Eccoli Ci sono ci sono ci sono Ok Paolo è bot Paolo viene mid Piano 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 Va bene Nel sentare Va bene Nel sentare Io ho la Ah non sono to' igniter Paolo viene mid Paolo viene mid Paolo viene mid Ok ho botto Ok ho botto Ok ho botto Andate via Andate via C'è importante era mandare Ci vince anche Vi ruotano botto Io ho tp Ho tp Cioè scanne le botte Scanne le botte Scanne le botte Hai messo l'airland Posso far tp Posso far tp Io ce l'ho ulti Ce l'ho ulti Ma lo contestiamo Lo contestiamo Tp Faccio tp Faccio tp Ah ma se può ultare la P Però no Eh vabbè Niente niente L'ho detto raga Non lo sento No non ho sentito nemmeno io Allora Polpa nostra Guarda se viene Ci vuoi nascondere con me Ah arrivo io Ah ma lo sanno È probabile Però magari Mi faccio vedere Che vado verso top Ma in realtà Poi lo uccidiamo mid Mi faccio Faccio fidare di andare top C'è il new worker dietro No no Ancora no Ho trollato la Q Ma perché mi hai aspettato Ale È perché mi sembrava il momento giusto Eh gli faccio Facciamo finta Ma non vi dirlo Eh no Ti devo avvisare che mi stavo girando in quel momento Hai ragione Hai ragione Vabbè dai Siamo 120 gold Ragazzi comunque siamo messi benissimo Due minuti al drago Dobbiamo solo contestare drago era altro minuto E siamo più forti noi Li distruggiamo in fight Non ho idea di come se non sopporto C'è anche l'herald No infatti ora Mana mana viene l'herald Anche se un po' presto Occhio mid Sto trollando Sto trollando Ma che fa Arrivo Arrivo Questo è morto Questo è morto Va bene È work per noi Ma sono stronzi Mi fanno giocare Ma sei farmato molto più di lui comunque Quindi è easy Li ammazziamo bot Li ammazziamo bot Io non ho la ulti Ok se se ne vanno va bene Se se ne vanno va bene Io rocollo Mana viene come Andiamo a contestare in 5 l'herald In 5 l'herald Vanitz muori C'è Orna Sei morto Andiamo a aiutarlo Vinciamo Vinciamo il fight C'è la fight Ma la possiamo vedere lo stesso Skarner e Romare Vinciamo Qui 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 Aspettaci Renor Renor E qua c'è Skarner dietro Orna non ha flash ulti Orna è senza niente Orna non ha niente Orna non ha niente Non ha niente Drago tra 30 No no facciamo l'herald Eh andiamo al drago Sì Io dovrò flashare Era un po' cringe Fareste kill Andiamo 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 in 5 Abbiamo ultili mf Orna è morto ma Hanno ultili Skarner Posso mettere Io metto l'herald Mid magari Ho messo l'herald Vai No ma non contestano No ma non contestano Perché distruggiamo Non attento a te Arriva qui di Morgana Da qua magari Ok guarda sono topside Guarda Riesci a wardare il mio Coso lì Non ce l'hai Ma non è no ward No Faccio questo Ma scusa ma Deviamo quel pagliaccio bot Renor continua a mettere pressure Ma non deve andare Aspettami Che palo è topside Push la vai bot Se riesci Occhio sono Forse sono nella giangola Forse sono qua Mi hanno spottato Recollo Dai io recollo Scarner mid Scarner arriva verso bot Andiamo Dai 5 gold Secondo voi Gold drinker Or silbo Ehm Oh Esco a me Silbo Che palle Era qua Scarner qua Insima a qualcun altro Scarner qua Ragazzi Noi siamo più forti l'ora Oh ma che fa Winston ma che fa Andiamo 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 Ma che fa Ma sta trollando Organa qua Organa qua Sto arrivando Con il suo mosso Vieni vieni Mi suorci un colare Vinciamo ancora Vinciamo ancora Oh non ho niente Non ho niente Non ho niente Continua 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 Allora Ehm vabbè Vabbè non fa niente Un po' like Vanet's è morto No no Un po' like Un po' like Non ho niente Ma una mid Fa il gen del giro Per aiutare Non dobbiamo Fettare Non dobbiamo Fettare Fettiamo gli obiettivi Tanto li vinciamo Sempre i fight Ma sono the same? Eh io non ho ancora Cooldown E poi è dip Non dobbiamo Fettare Non ando così dip Vai Io non l'ho L'ho avutato C'è un temporale fuori Non è spaventato Non ti resta un altro Hai bisogno di 400 gold E divento immortale Okami non ti preoccupare Infatti che non ti focussano Vai in quanto vuoi A far danno Prima semplicemente ero lontano Ho torpato pure il ghost Per arrivare in tempo Via via Occhio provano top O botto qualcosa Sì sì sono botto Sì sì occhio perché c'è la pianta Io ho bisogno di 200 gold ragazzi Pusha pusha non avrei paura Mi sono io Sì è che non voglio utilizzare il mana Perché se no dopo non ce l'ho Ah puoi ricollare Hai qualcosa No Io ho il tp Io ne no Siamo uno in più sulla mappa Io ho il tp Io ne no Ricollo Aspetta prima Abbiamo fatto qualcosa Nasconditi Quando va per la Quando va per il mino indietro Riesci a ingaggiarlo Io vado a prendere il mana Ingaggia lo Ingaggia lo Ione non ha flash Ione non ha ulti ignite Barron posso no? Ma no che Barron fa Oddio però Vabbè andiamo a controllare Ma vediamo Ione Ione non ha ulti ignite È come se non avesse niente Ma andiamo a guardare un attimo Il Barron e poi io ricollo Mi scammo 3000 Mi scammo Vabbè ok io ricollo C'è Mr. Chuck C'è anche Palo dietro Qualcosa così No 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 Voglio solo fare lo scatto Poi ce ne andiamo Io ho Vedrò full appelli Shorter off Vanno con l'arma E vado io Botto il Renn Quello al tp Tu giocati E io Non morite Sono qua Non morite adesso Anche attento mid Che magari Scar ne fa flash Cringiate Io sono veramente immortale Nei fight Cioè le agito Non possono uccidermi È impossibile Perdiamo i fight Per cui siamo messi adesso Magari sono pure In questo c'è spuglia Ma ora vengo anche io E pushami insieme Tu vuoi usare tp Vanets o vuoi camminare No tp 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 Non è lo sweeper Vieni con me Da qua da qua Da qua Orna top Potrebbero cross mappare Ma Ma qua li distruggiamo Ragazzi Senza paura Venite 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 Vuoi tippare Li distruggiamo Così Vai 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 Non brei Chuck 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 Guarda 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 No non è giusto Ammazzate Chuck ragazzi Non c'è la botta Non c'è la botta Drago 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 Arrivo 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 Vinciamo 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 Ma non è meglio Raga io non mi posso muovere No Non so Non so Non lo so Ma non lo so Di me Di obo Ha tirato Tra me Non è Un trato Dovete ricordarvi Sempre Che hanno sta roba Di reingaggiare E ricordatevi Danni Li fa Ione Non abbiate paura Degli altri Che non fanno danno Scanner è full tank E per me Avrò quello Non gli faccio danno Vabbè ancora non gli fa danno Certo Comunque Deve andare a Crane Anche il fatto Che non gli fa danno Perché è una build Che è difensiva Ma non Non ci servono Nel difese Raga Non posso giocare Una build Che fa danno In un game Dove giocano Per la bot Vabbè Ormai ce l'hai Quindi Hai bisogno Della Swiss Però dopo Sennò non fai danno Eh sì Vabbè Faccio gli under Dai Non posso Vabbè Vinciamo ancora i fight Primer Non ha senso Viva verso l'ultimo Giochiamo insieme E vinciamo E lo so Non push Gana Guarda Scarnere bot Provano su di te Tra i miei due signori Ma in di caso Si rascia in finiti Giusto quando si rascia in finiti Giusto non hai Tu io o ne? Sì 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 Ok Tranquillo Tranquillo Dai Occhio top Hai una pink qua Ah Biscinate di Reynor Ok Potrebbero essere Qui di Rocco Di Morgana Occhio Io prendo un attimo Item Ma la prendi due pink Ricolla Eh no Sono tutti top Però guarda C'è anche questo Ci sarà pure altro Vuoi guardare Catelyn Io ti sto prendendo tempo No no Non mi sto Ok ok Ti ho preso tempo Direi che va bene Il loro red Dovrei andare Io devo tornare in base E con le anch'io dai Tanto abbiamo momentina Due al drago Quella è la loro win condition Ficati no Sì 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 Io ti p posso andare top Vai vai Ora io piazzo una pink cozza Al Baron Organa invece Nel Baron Sono da quelle parti lì Io mi faccio qua Occhio occhio qui Abbiamo anche l'ultd Allora vengo a coprire Dopo iniziare a gruppare Dobbiamo fare Cos'era il drago Sì Arrivò Arrivò Andiamo qua insieme Ma non hanno messo nessuno top Loro qua Sono in 5 loro Perché non ce ne sono Sì Pusciamo a briga mid Prendiamo a pry Vieni qui qua Prova a saltare dietro No Non provo Abbiamo sweeper qualcosa 8 secondi allo sweeper 8 secondi allo sweeper Occhio raga Ok Oh per un pleno Sì Anche la mia Ma li tolgo questo Li tolgo questo Ok Un flash Io mi sto curando Mi sto curando Lo stanno rushando C'è la la Lavora dove qualcuno La può buttare Eh ma Dobbiamo provare Io ho la passiva Non riuscite No non riusciamo Eh ma ora è Insan Mannaggia Ah peccato Caspita Non avevo smite Caspita Sera close Ah non capisco cosa Non riusciamo a fare teamfight Perché ho fatto un botto di danno Che ti non ha L'ho zonata Ci mancano di danno Non so perché Scarno è niente Se sei bruttino Mi fa l'R Io non riesco Vanno Baron Vanno Baron Vanno Baron Ah e mi sa che lo possono fare Cacchi roga Morgan raga Ione è andato sulla backline Ha zonato sia me che Namia Morgan ha spittato il fight Ione è andato sulla backline Riuscite a fare qualcosina No è andato Mannaggia Eh ma è doomed Proviamo Proviamo No no ci stava Provare ci stava Most likely Però proviamoci Proviamoci Ci manca un po' di danno Magari scalando Riusciamo a trovare i danni Ci mancano i danni Mettiamoci qua a difendere Vediamo se riusciamo a fare qualcosa Ora se qua esagero Non possiamo provare No io non aspetterei Proviamo Aspetta Caitlyn Poi adesso c'è anche Il problema della soul Quando hai low damage Disastrosa Mannaggia Posso difendere Vediamo Provate a fetare Riuscite a cesarli È venuti più qualcosa Non ce l'abbiamo Mannaggia Quando barano io sono solo Cesarli vuol dire Che sono fuori Eh sì È un casino Eh ma Io proprio non riesco a muovermi Nel fight E io devo andare In un super fight No 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 Lo so Lo so Eh ma adesso è difficile Cioè Dobbiamo vincere le prime fight Quello è il problema Possiamo provare a vedere qui Se riusciamo a fare un pick Mettiamoci qui Vediamo se qualcuno Face check Ma sì Arriverà qualcuno Potrebbero Andate back Andiamo back Sì sì Sto pucerando a botte Che hanno una bella wave E dobbiamo difendere E dobbiamo difendere i Nibuan Questa si give up Sì Arrivò Oh no no Mid bint occhio E dobbiamo ingaggiare qui ragazzi Sulla torre Sennò poi non abbiamo nessuna chance Quando vanno per questa Per questa Aspettatemi un secondo Aspettatemi un secondo Levate questa ward please Sennò non posso indeggiare Ma Ok ok Dobbiamo solo difendere Dobbiamo solo difendere Stato Sennò in mid Ragazzi Dai Dai Iann 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 Non abbiamo proprio danno Non abbiamo proprio DPS Ah immagino Quello vince Va bene GG GG Peccato Eh Mannaggia Mannaggia Era close No ma guarda Questo fight qua Era impossibile perdere Onestamente Cioè non so cosa sia successo Ma era letteralmente impossibile Da perdere Cioè Era impossibilissimo Non so cosa sia successo Cioè considera Hanno trollato Paolo E Scarner Ma loro hanno trollato peggio Cioè non so cosa sia successo Perché Paolo ha sbagliato tutto E ha sbagliato Dopo Scarner ancora di più E lo stesso abbiamo perso Quello per Merengue Ah e Caitlyn No no Quel fight non lo capisco proprio Boh guardiamo il vote